Grazie a tutti Grazie a tutti Ho una trappola Nuova Non so cosa sia Non ho mia idea Non andiamo dietro a casa Stanno combattendo Cioè non è una domanda Era un'affermazione C'è un pompa La prendiamo subito Questo meglio Grazie a tutti C'è uno qua dentro Perfetto C'è un altro vero? Non ho più materiali Devo prenderci la mano Faccio abbastanza schifo C'è un altro vero? C'è un altro vero? C'è un altro vero? Abbastanza fastidiosa però Anzi fastidioso Il nuovo grafico Un po' troppo ingombrante Per fare il mio Prendo delle mele Prendo delle mele Ancora una Ancora una Vabbè Non mi prende la munizione Vabbè Che è una cosa Che è una cosa molto comoda Solo che Funzionasse Direttamente Sarebbe meglio Ovviamente Ci sono delle mele Ci sono delle mele Che vado subito a prendere Ci sono anche dei materiali Nostriamo qualcosa C'è nulla Sì sì Non sa come è la nuova grafica Che sarebbe in realtà La vecchia grafica Però vabbè Cioè mi sembra Mi sembra di ricordare Fosse così in realtà Il gioco In grosso modo Cioè mi sembra di ricordare Mi hanno corretto il materiale Cioè mi hanno fatto più lenti Di nuovo Mi sembra che siano stati fatti più lenti Cioè come erano Una volta Vediamo questo quanto mi dà Sì mi pare L'abbiamo rallentati Di nuovo Non sono molto sicuro Ah ma hanno rimesso i materiali Hanno rimesso i materiali a mille Hanno rimesso i materiali a mille Mi sembra Vediamo Magari 600 Al limite Non so E hanno ridotto la velocità Con cui si prendono Questa cosa mi era stato stupido Quindi posso tornare a fare un botto di materiale Non capisco bene la scelta Però No Mi sembra che è di nuovo mille Molto strano Ah tra l'altro No il pompa avevo tolato Nascosta partita Quello nuovo Vero Mi ero Confuso Ora vi voglio vedere Se è davvero mille Il limite Però Non ho visto Questa roba Nella giornata Ok Ho tenuto le impostazioni Della Competitive Quindi che tirano la vita Quando uccidi Però Si ma 3 Sono tornati a mille Bah Sinceramente Mille Secondo me Sono troppi E penso che siano tutti d'accordo su questo Poi magari l'hanno fatto Per togliere Per bilanciare Si potarsi Per bilanciare Il fatto che si prendessero troppo velocemente Il materiale Quindi la gente costruirà di più Però Io preferivo prima Sinceramente Forse Forse 500 materiale Con questa velocità Forse un 20% in più Non un 40% in più Sarebbe stato più bilanciato Così Secondo me è un po' troppo forte Così Per il Minchia tutto sto prendendo Ma che cazzo Qui son pieno Di nuovo Ora spostiamoci un pochino Boh non mi ricordo Come fosse Quanto fosse Ecco Se dici Qui abbracciano 70 Vuol dire che L'hanno abbassato L'hanno abbassato la velocità Altrimenti Se non ce ne danno 70 Vuol dire che È rimasto uguale Boh non mi ricordo Sì mi sembra che Non ho idea Vedrò Devo A fine di questa partita Ci leggiamo di nuovo Le La pace notes Quindi Le note di aggiornamento Perché C'è qualcosa che Non quadra Va bene che io Non so mirare Però Quanto cazzo Si sposta Questo Io pure che Se mi fermo Mi cecchino Non è di brutto Quindi devo continuare a muoverlo Lo seguo un pochino Per vedere dove va Magari va dietro Quello No è ancora là Madonna No è instancabile Non lo vedo più Eccolo Eccola da sopra E' uscito E' rientrato E' ancora dentro No Esce e rientra Ah voler aprire la cassa Cioè voleva aprire Voleva aprire la cassa E l'ha aperta Un po' scemo Che cazzo è quella roba Là dietro Che si gira Eh spostiamoci Dove cazzo dovrebbe essere Quel tipo Minchia mi prenderò Una cecchinata sicura Da 200 Che palle Mi da fastidio Il cecchino Dove puoi sbilanciare Sto gioco Cioè finire la partita Con un colpo in testa Il cecchino E' proprio Una roba merdosa Io mi metto là Fiero Gentili Mi ha visto anche lui Ah non ci credo Quanto cazzo faccio schifo a costruire Hanno sparato Di là lo vedo Quindi siamo 5 Contro 5 Cioè siamo certi E siamo contro 5 Uno ci arriva da dietro Però non lo vedo Non siamo in zona Molto bene Lì dovremmo esserlo Però Là Non lo so Sì siamo in zona Sì siamo in zona qua Fermati Me ne sto qua Tranquillo Grafica nuova Stile di gioco vecchio Contro 3 Qui non dovrei avere nessuno Che rompa il cazzo Gente era Di là Non so bene Se si è spostata Comunque non devono spostarsi Di non spostarsi Qua avanti Quindi appena fuori Dall'andretare Interessante Con il tipo lì Penso che sia morto Non ho idea Di che fine abbia fatto Che aveva la palla Poi si è spostato Però non ho ben capito dove Qua avanti Pensavo mi presto Non hanno caduto Eh qui però Un problema Qui sono ammazzati C'è una palla Vero? Cazzo Dai che pe... Ho perso così già Vado a dire un altro razzo Sta scendendo All'altezza Dove cazzo è? Vabbè ho perso Ma è normale Però Sarebbe stato bello Vincerla Ma Purtroppo Si può aver tutto Dalla vita Vado a dire un altro razzo Vado a dire un altro razzo Vabbè questo era bravo 130 In test In test In test In test In test In test Vado a dire un altro razzo 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 Grazie a tutti.